Bella ragazzi, settima parte, erano rimasti 4 a 2 per me, oddio, grande giovinco, giovinco, appena entrato, ma che cacchio ha fatto il pallonetto, ho appena entrato già figura di Merqua, di Mercury, figura di Mercury, tira, tira, no, fallo, fallo, coglioni, nini che ha baciso, nini, ma che, 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 come c'ha fatto, come ha fatto, come ha fatto, come ha fatto, come si era intuffato da 30 anni, corto, corto, cacca, cacca, figura di cacca, bella ragazzi, ecco, eravamo rimasti con la mia figura di, capito, no, e ora ci d'inizio, con le belle figure, altrimenti ammazza tutti, ma si, ma dai, ma che ci vuole, si, si, è bello, si, sentite il suono, che mi ricorda, questo, si, bam bam bam, ora vedrete il gol, è il mio quarto gol, l'ha detto Massari, ha fatto quattro gol, grande, buca la parte la quattro gol di Brian, quattro gol, quattro, 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 sì, è bello, sì, grande, ci vedremo nella ottava parte mi sembra.